Il più grande tenore del mondo della musica, Andrea Bocelli, ha una splendida famiglia allargata. Non tutti sanno che ha un figlio bellissimo e molto famoso. La somiglianza tra i due è davvero clamorosa, vediamolo e conosciamolo meglio. Andrea Bocelli, ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, in modo da proteggere il più possibile la privacy della sua famiglia, ma essendo il tenore più famoso al mondo, è stato molto difficile. Sulla sua vita privata, sappiamo che ha ben tre figli nati da due matrimoni diversi, Amos, Matteo e Virginia. Il suo secondo genito, è molto conosciuto anche all'estero. Siete curiosi di scoprire chi è? Non ci crederete mai, ma è proprio lui. La famiglia allargata di Andrea Bocelli Andrea Bocelli, durante il suo percorso all'università, conobbe e si innamorò di Erika Cenzatti. Il loro amore durò per ben dieci anni, precisamente dal 1992 al 2002. Hanno avuto anche due bellissimi figli maschi, Amos e Matteo. Si vocifera che i motivi della loro rottura sarebbero legati ai presunti tradimenti di lui. Dopo la separazione con la sua prima moglie, il tenore si è sposato con Veronica Berti, da cui ha avuto un'altra figlia, Virginia. La coppia, ancora oggi è innamorata come il primo giorno. Ad attirare l'attenzione della famiglia Bocelli, è stato Matteo, il secondo figlio del cantante. Grazie al suo talento e alla sua bellezza ha conquistato il cuore del pubblico, conosciamolo meglio. Chi è Matteo Bocelli? Carriera e vita privata classe 1997, Matteo Bocelli è il secondo figlio di Andrea Bocelli. I due hanno un bellissimo rapporto, addirittura, il giovane ha deciso di seguire le orme di suo padre, infatti, è un grande artista. Il 25enne, ha conseguito il diploma presso il Luigi Boccherini, un noto conservatorio di Lucca. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto nel 2016, al Celebrity Fight Night. Molti di voi lo ricorderanno al Festival di Sanremo 2019, in veste di ospite, dove ha duettato proprio con suo padre. Il suo talento lasciò tutti a bocca aperta. Inoltre, Matteo è anche un noto modello, ha sfilato per delle importanti e famose case di moda, tra cui Guess. Bello e talentuoso, ha catturato l'attenzione anche della cronaca rosa, infatti, è stato avvistato con delle star internazionali come Bella Adide e Katy Perry. Attualmente, non è impegnato con nessuna ragazza, è felicemente single.